Musica Rista con lui, rista con lui vai Bello ragazzi come Marsek e bentornati al mio canale oggi signori Siamo entrati qui con un nuovo video Per quanto riguarda un tutorial sul canale Qualche giorno fa su Instagram ho messo una clip mentre io sparavo con il rift Cosa che ormai vabbè si vede da qualche giorno su BCC Trolling o altri canali Può essere utile col pompa, col barret soprattutto che scioglie Meglio dire col pompa che appunto li piantate un colpo se è one shot Cosa del genere, potete usarlo quando uno è chiuso in un box uno per uno Lo portate via con voi con il rift, fate questo metodo E poi li piantate una pompata in faccia se sapete che in quel momento è one shot E quindi lui non lo potrà fare perché lui non se lo aspetta che rifta con voi E quindi voi gli piantate la pompata in volo Ci sono tantissimi casi per farlo come ad esempio un piccolo trick Come ultima kill usare il rift con questo metodo e spararli col caccia o con qualsiasi altro cecchino Cosa che appunto ho messo su Instagram e purtroppo per qualche millesimo di secondo Il tizio è morto dalla tempesta invece che dal mio colpo di caccia E comunque lì sotto quella clip tutti si sono domandati come si fa questo metodo E ora sono qui per spiegarvelo Vi invito ad andare in creativa per provare questo metodo Non da farlo subito a meno che capite lo switch di armi Quando sparare, il timing di quando lanciare lo sticker eccetera Iniziamo subitissimo con i tutorial Requisiti, un rift, un'arma con cui vogliamo sparare appunto quando siamo in cielo E lo sticker, qualsiasi sticker che noi lanciamo le motte che lanciamo tipo il cuoricino Non so, altre motte tipo il gatto nero che lancio ogni tanto nei video Quegli sticker lì, poi se me lo metto qui sotto vi faccio capire quali sono gli sticker in gioco Quindi rift, sticker e arma che vogliamo usare per sparare Nel mio caso il caccia Se usiamo un rift, ve lo dico già da ora, non bisogna switchare all'arma che vogliamo sparare Quando abbiamo usato il rift Se abbiamo due rift nell'inventario in quel caso il gioco non switcherà da solo di arma Quindi non cambia l'arma da solo ma bensì dovremo essere noi a cambiare arma dopo che abbiamo lanciato le motte Partiamo prima con un rift per farvi capire Con un rift, una volta spiegato il rift e lanciamo le motte Il gioco in automatico passa sullo slot successivo Dobbiamo attivare il rift Lanciare subito le motte quindi con riavvia ultime motte che si imposta come vi sto mostrando ora Potete riavviare l'ultima motte fatta La prima motte che ho è la risata dell'asino Mentre le motte del cuoricino ce l'ho su un altro slot Quindi prima mi devo assicurare di avviare appunto il cuoricino Cosa faccio? A vuoto lo lancio così che il gioco capisce che l'ultima motte che ho usato è stato il cuoricino E non la risata dell'asino che è in primo piano Quindi se io vado a premere freccia a destra Per fare riavvia ultime motte mi parte il cuoricino Perché l'ultima motte avviata è stato il cuoricino Quindi lancio il cuoricino una volta che ho attivato il rift Quindi rift lo attivo Cuoricino immediatamente quindi riavvio l'ultima motte immediatamente E ricordatevi che sia uno sticker avviato E subito sparare Vi dico la posizione del nemico Ogni volta Il 90% dei casi Facciamo così mettiamo giù una percentuale Il nemico si trova sulla nostra destra Che andando a girare la visuale ce la troviamo proprio davanti Ogni tanto capita che magari ci rifta dietro le spalle Ma proprio una rarità molto 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 bassa che capita Una cosa del genere Molte volte è sempre sulla nostra destra il nemico Che andandoci a girare poi ce la troviamo di fronte Quindi una volta fatto rift Emote Sparo in volo subito Perché dopo un tot di secondi non vi fa sparare Quindi dovete sparare subito appena avviate l'emote Appena avete riftato Potete prendere il nemico Se avete due rift dovete essere voi qui A ricordarvi che avete due rift E che dovrete switchare arma Perché in quel caso il gioco Non ho spiegato il rift Ne avrete ancora uno nello stesso slot E il gioco non switcherà di arma da solo Non cambierà da solo l'arma Quindi cosa farete? Lanciate il rift Fate l'emote Switchate arma e sparate immediatamente Solo se avete due rift Se ne avete uno Non c'è bisogno di switchare arma Quindi farete sostanto rift Emote E subito dopo sparo Con due rift farete Rift Emote Switch E sparo Io spero che questo video tutorial Vi sia stato utile Se volete trollare magari L'ultimo nemico In arena eccetera Volete tirare fuori uno dai box Molte persone si boxe Con la modalità Lo fate riftare insieme a voi Se sapete che è one shot Ripiantate una pompata in faccia così Poi vabbè Da pc è più semplice Perché da pc Dovete cambiarla Dovete cambiarla voi Ditemi cosa ne piacciono Di questo tutorial Ditemi se vi è stato utile Ditemi se trollerete qualcuno Se non lo faceranno prima del previsto Sì perché questa cosa verrà sicuramente sistemata Spero che il video vi sia stato utile Come sempre Vi traccio un commento Mi spiego mi piace Codici supporto a un creatore Marsec Dallo shop Inviatemi Scheme su instagram Marsec Yt Foto stories Video Quello che volete Nei messaggi Così che io riposto Noi ci vediamo al prossimo video Bella Il video è giunto al termine Lascio qui una lista Delle persone che voglio ringraziare Che hanno acquistato qualcosa Dallo shop Con il mio codice Supporta Un creatore Anche due Può apparire in qualche video Ti invito a inviarmi la foto Di un tuo acquisto Dallo shop Con il mio codice Supporta un creatore Marsec Direttamente su instagram Nei messaggi Oppure su telegram Chiocciola Marsec Successivamente invito anche A scrivermi il nome Con cui vuoi apparire in lista Grazie infinita ancora Di tutti quelli che acquisteranno Con il mio codice